come si inizia a raccontare una storia da dove si parte mentre inizio questo progetto ho le idee confuse so dove voglio arrivare ma non come arrivarci ho filmato tutto e ora non mi piace più quello che ho filmato ma tu non hai capito che questo sono l'inizio ci voglio arrivare sì Grazie a tutti per aver guardato il video.